Buonasera a tutti gente Torniamo alla nostra partitona Siamo un po' in difficoltà sta prendendo una piega che non in difficoltà però sta prendendo una piega che non desideravo molto sinceramente cioè il centro dei nostri interessi sta spostando qui nel sacro romano intero ci stanno investendo molte risorse ho tanti vassalli che mi pesano qui sulle sui punti diplomatici tutto per cercare di diventare imperatore che non so neanche se alla fine mi convenga neanche perché comunque credo al principio di nazionalità quindi ho qualche dubbio su se mai si avviare, sempre che c'è la faccia si avviare la riforma per unificare il sacro romano intero anche perché come diceva Voltaire non credo che il sacro romano intero sia stato né sacro, né romano, né impero quindi molto meglio l'Italia il regno d'Italia pur e semplice però era una cosa in più tanto per provarla invece dal punto di vista tecnico ho il problema che ho il problema che sentite malissimo se ne rendo conto qualcuno me l'ha fatto anche notare ne ho cercato una a poco prezzo ma sicuramente è migliore di questa schifissuola che ho io da mai vecchia di 10 anni che l'ho pagata 5 euro all'epoca ne ho trovato uno da 12 euro mi sembra sui dei insomma poteva andare per le mie limitate esigenze ma al momento non posso permettermelo quindi ho preparato un video in cui invito chiunque fosse interessato a vedere i miei video che ce l'ha e in più di sopravanzo magari ci sono quelle persone che comunque hanno il pallino dell'informatica e quindi hanno parecchio materiale e gli rimane qualcosa di inutilizzato e che me lo spediste non so se questo video l'abbiate già veduto oppure no che è questo che sto facendo adesso oggi 20 febbraio 21 e 10 circa scusa 20 febbraio 21 e 10 circa lo pubblicherò credo visto che ne ho tanti dietro non so prima di 20 giorni e quindi forse lo avrete già visto a meno che decida di non pubblicarvi quindi niente adesso per la prima volta perchè magari ho comprato può darsi già ho perduto abbastanza tempo quindi passiamo subito all'azione ci sono queste due guerricioni in corso di cui quella importante è quella con la Spagna ecco subito cominciamo con i blocchi aspettiamo che non sia definitivo visto che già un paio di volte mi è capitato che si era proprio arenato il gioco e e purtroppo potremmo che sentirete questo fastidioso rumorino perchè ho lasciato una finestra aperta però adesso se io ci rivado rischio che non funzioni più che si blocchi come ho fatto prima quindi ogni tanto magari si sentirà questo rumorino che sono le notifiche allora questa è la guerra contro la Spagna per le colonie altra cosa che volevo evitare ecco qui ci sono dei bei soldini e già ho dovuto rinunciare a 3.000 Ducati adesso basta mi sono stancato di rinunciare ai Ducati perchè mi servono i soldi voglio fare investimenti ho anche dei coloni disponibili quindi adesso iniziamo un po' seriamente solo che qui potrei mandare dei coloni ma è tutto sotto controllo degli spagnoli e la mia flotta potrebbe non essere in grado di già ho sostenuto uno sconto molto duro non essere in grado di farmi arrivare alla fine quindi ecco potrei mandarli qui però sono molto feroci non posso trasferire tutte che non le ho qui a disposizione vedete non ne ho proprio niente questa ancora è terra in conica quindi vediamo vediamo ecco posso provare a mandarlo qua in maniera tale che un pochino più tranquilla anche se non c'è continuità territoriale purtroppo non ho scelta non ho scelta se voglio sfruttare questo colono devo rischiare no soprattutto neanche a me ce lo manda questo perchè questa non è pronta ancora quindi mi rimane disoccupato la colonna in pratica a meno che posso mandarlo qui ma anche se pure questa insomma rischio di invasione molto precoce quindi l'unica è che io mandi una legione un reparto più presto e a questo punto mi rimane che è un'operazione da fare cioè migliare prima la flotta cercare di ripulire i mari e posso vedere se riesco a a scudire effettivamente non è comunque una presa semplice allora intanto vediamo anche inizio queste costruzioni prima le metto inizio in Italia per la priorità assoluta vediamo vediamo qui quelle belle che come se dovrei vedere le costruzioni dappertutto qua su queste non sono propriamente Italia però sono molto convenienti comunque le costruisco io stesso Sì, è la città. troppo ravvicinata, ecco, così direi che più o meno la seconda Augusta invece io dovrei mandarci la quarta Augusta che ha un buon generale, che deve farsi le ossa come l'ultima arrivata ah, però prima giusto questa operazione vediamo un attimo di rafforzare anche le navi pesanti che sicuramente servono o serviranno ho solamente 12 navi da commerciali pregate e quindi bisognerà migliorare, ne ho ordinato una vetina però non sono pronta quindi c'è una nave, questa è un trasporto questa può anche non partire allora, qui c'è una flotta spagnola prima non avevano intercettato poco utile di colonne l'Ercole vediamo un po' e sono dovuto tornare indietro sedio di Belen, dov'è? ah, ho un piccolo contingente un piccolo contingente che però non posso spostarlo di più l'unica cosa che posso fare è cercare di aiutare questo esercito non arriverò mai in tempo sembra che non incontri gli ostacoli quindi proseguo e cercherò di arrivare ad Alcantara 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 ecco, l'ennesimo scatto qualcuno lo chiama lag più anglofili allora vediamo un attimo qui è inutile tentare di resistere da soli quindi lo unisco a questo esercito qui con Brasile italiano con Brasile italiano non è stato intercettato dovrebbe essere arrivato in teoria quindi comincio a temere che eccola no, non è stata intercettata questo è buon segno significativo che non si ritengono abbastanza forti da potermi affrontare e quindi troppo è messa male comunque una volta che attraverso l'oceano e dovrei andare a caccia della flotta avversaria se ci riuscissi a perdere un sacco di tempo è una lentezza incredibile quando arriva a un certo punto vediamo se vediamo se la Francia chi dà l'accesso no ancora per poco guarda 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 non mi interessa bisogna il prestigio che miseria ora si è presentata la flotta spagnola all'improvviso ma fregato, ma proprio fregato oltretutto non so se ci riesco a contenerla la flotta che mi ha attraversato con l'uceano si spavisca il Napoli per evitare ulteriori disastri navali si spavisca il Napoli per evitare ulteriori disastri navali ma anche se spavisca il Napoli Un entusiasmo di guerra basso. 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 Allora, sono molto numerosi comunque, non so se ce la faccio neanche con una legione un tiro, ma serve anche un trasporto sennò, un altro tempo. Grazie. Per un punto. Grazie. 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 posizionare le truppe qui questo è un atteso piccoli contingenti posso fare anche un pansezzo più avanti anche se devo lasciare una fortezza arretrata sembra che non ci sia molto grazie a tutti soltare una canata grazie a tutti grazie a tutti non ho nemmeno un porto vediamo almeno se riesco a prendere posizione non dico tanto adesso eschivo questa la riporto indietro che tanto ho capito non so neanche se basterà una legione non ci provo non ci provo non ci provo l'ultima operazione di imbarco non salgo bene non vi dico la madre di z non capisco perché non sale ma vabbè spostiamolo qua ma forse perché mancava il trasporto credevo che era pronto invece no è pronto adesso i francesi partecipano alla mischia chiarano guerra quindi a questo punto io non mi preoccupo più neanche molto delle zone qui di frontiera che sono povere prima che arrivino i francesi io vado ad occupare le zone veramente di valore i breviri ci hanno insultato un vassallo allora vediamo se vediamo qui è pure 200 è meglio di così l'ultima occhiata qua ancora 19 principi contrari ok ok comunque il tempo terminato come al solito c'è questa battaglia ma la vedremo la prossima volta io vi saluto buona notte o buongiorno riprende quando guardate questo video e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao